A tutti i nostri ascoltatori diamo il nostro benvenuto con il saluto del Cristo risorto, Pace del Signore, ed è un'esperienza che è importante per tutti, realizzare la pace, quello che in questo momento sento di poter trasmettere mediante la meditazione e la lettura ovviamente di un brano della parola del Signore, che leggiamo nel Vangelo secondo San Giovanni al capitolo 20, i versi da 19 a 21, così dice la parola del Signore. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre le porte del luogo cui si trovavano i discepoli erano chiuse per tema dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi. E detto questo mostrò le loro mani e il costato. I discepoli dunque veduto il Signore si l'allegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, così anch'io mando voi. Porte chiuse. È risultato di un momento di paura, di timore, di difficoltà, di vedersi incapace di affrontare la vita, il domani. Perché quello che ci è accaduto ci ha messo in cibette, ha messo in disagio. Ma più che disagio, una vera difficoltà. I discepoli di Gesù erano stati con Gesù per tre anni e sei mesi. Avevano visto cose meravigliose, ma allo stesso tempo quei giorni precedenti li avevano visti impreparati. Oppure quello che era accaduto, successo, non era quello che loro si aspettavano. Ed ecco che sono tutti quanti ciusi, hanno paura, hanno timore. E' questo che capita, cari ascoltatori, a quanti veniamo a trovarci in difficoltà, in situazioni che non ci aspettavamo, oppure che ci hanno stupiti, meravigliati in senso negativo. E viene fuori una paura, paura di quello che può succederci. Paura del domani, paura delle angosce, delle avversità, ma soprattutto paura della vita. Loro hanno paura perché il loro maestro Gesù è stato messo a morte, è morto. E loro hanno paura che può succedere anche a loro qualcosa di letale, morire. E quindi sono chiusi. Quanti? Quanti? Troppi. Sono chiusi. Si chiude. Ci si chiude nella paura, nelle avversità, nel timore. E notate che non è una sola persona. Stanno insieme. Ma non sono in grado di uscire dalla paura, uscire dal timore, uscire dall'incertezza del domani. Cosa succede invece? Che Gesù, colui che hanno visto morire, colore che hanno visto in una situazione inaspettata, ora entra a loro, va a loro. Bene, Gesù viene a te in questo momento. In questo momento che stai vivendo le tue paure, le tue difficoltà, e anche i tuoi amici, i tuoi familiari, quelli che stanno insieme a te, si sono chiusi anche loro. Hanno paura. Non sanno come affrontare il domani, il dolore, l'avversità, l'incomprensione, le delusioni. Sono chiusi. Necessita un miracolo. E questo è il miracolo della risurrezione. Gesù è risorto. Gesù viene nelle tue paure, nelle tue porte chiuse per operare meraviglia. La prima cosa che ti dà è la pace. La prima cosa che hai necessità è la pace del Signore. Non la pace è comune, nel senso comune del termine, ma quello che viene dall'alto, da Cristo Gesù. In questa occasione Gesù ripete questo saluto. Pace. Pace a voi. È quello che Gesù dona a coloro che si trovano in queste circostanze e vengono e hanno a realizzare questo intervento meraviglioso. Dio in questo momento interviene nella tua vita in un momento particolare e ti dice pace. Ti vuole donare pace. Ti vuole far uscire dalle tue paure, dai tuoi timori, dalle tue difficoltà. In che modo, in che barriera, realizzando la libertà, la liberazione, mediante Gesù Cristo che è morto, ma è risorto, è vivente e dona pace. Pace al cuore, pace all'anima, pace alla mente, pace alla serenità. Anche in difficoltà, quando c'è la pace del Signore, c'è tutto. Perché quella pace che riempi i nostri cuori e le nostre menti, il tuo cuore, la tua mente, tu puoi essere certo, caro, in ascolto, che Gesù che è morto per i tuoi peccati è risorto per donarti vita, per liberarti dalla paura della morte, dalla paura del peccato, perché Gesù ha vinto il peccato. Ed ora ti ripete, pace a voi. Accetti in questo momento la pace di Cristo Gesù. Egli ti libera da ogni catena, da ogni paura. Davanti a te c'è una porta aperta. Gesù ha detto, io sono la porta. E se uno entra, troverà pastura. Egli è il buon pastore. In questo momento apriti al Signore, perché Gesù è venuto a te, al tuo cuore. Vuole che tu lo segui. Gesù è venuto per dare pace e liberazione. Ti libera dalle tue chiusure, ti libera dai tuoi preconcetti e ti dona una nuova vita. Una vita di fede, una vita di certezza, di una speranza certa. Quindi certezza che la sua parola è verità. Nel concludere, ti saluto nell'amore del Signore. Certo che questo piccolo seme possa portare un frutto, frutto alla gloria di Dio. Sappi che Gesù è morto per i tuoi peccati. È risorto per darti vita e per liberarti da ogni chiusura, da ogni paura, da ogni difficoltà. Che la pace di Dio sia nel tuo cuore. Per sempre Dio ti benedica.